Lo sfincione è il re del cibo da strada palermetano. Alla farina aggiungiamo il lievito e continuando ad impastare aggiungiamo acqua e sale, fino ad ottenere un impasto omogeneo e lo lasciamo riposare un paio d'ore. Nel frattempo facciamo soffriggere la cipolla aggiungendo un po' d'acqua. Uniamo i pomodori pelati, aggiustiamo di sale e pepe e cuociamo per 30 minuti. Stendiamo l'impasto su una teglia unta d'olio e versiamo la conza distribuendola per bene e aggiungiamo filetti di alice e caciocavallo. Infine cospargiamo la superficie con pan grattato, origano e olio. Cuociamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti girando la teglia a metà cottura. Facciamolo raffreddare e dividiamolo a pezzi. Adesso il nostro fantastico sfincione è pronto per riempire di odori le strade di Palermo.